I militari della Compagnia di Gravina di Catania, unitamente ai carabinieri del XII Regimento Sicilia e del Nucleo Cinofili, con l'ausilio di operatori delle società e distribuzione Esidra, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dell'illegalità diffusa nella zona delle palazzine popolari di via Oberdan. Al riguardo i carabinieri, unitamente al personale tecnico, nell'ambito delle attività di verifica connesse al fenomeno dell'approvvigionamento illecito di energia elettrica e acqua pubblica, hanno pizzicato sei residenti che si erano garantiti in maniera fraudolenta la fornitura di elettricità e acqua. In particolare, tre soggetti si erano allacciati abusivamente alla rete pubblica elettrica attraverso un bypass che consentiva di non contabilizzare i consumi. Due condomini, oltre a rubare elettricità, si erano anche indebitamente collegati alla rete idrica attraverso la manomissione della condotta e l'ultimo residente si era invece accontentato di sottrarre soltanto acqua pubblica senza pagarne il servizio. Il danno stimato alla e-distribuzione è di circa 30.000 euro, mentre quello alla società Sidra è ancora in via di quantificazione. I sei individui sono stati quindi denunciati a piede libero per furto aggravato. In aggiunta i militari, in un fondo pubblico adiacente alle palazzine popolari, hanno rinvenuto, nascoste tra la vegetazione, un revolver, una pistola scacciacani dal cui tappo era stata rimossa la vernice rossa, in tutto simile a un calibro 9 semiautomatica e 56 proiettili. Le armi sequestrate saranno inviate al raggruppamento investigazioni scientifiche per gli esami balistici e biologici al fine di identificarne gli utilizzatori. Recuperato infine uno scooter rubato lo scorso 9 settembre a Letoianni e riconsegnato al proprietario.